Ciao Claudia, benvenuta a Periscritto. Ciao Martia, grazie dell'invito. Grazie a te Claudia, sono molto contenta di poterti intervistare oggi perché questa è un po' una puntata speciale di Periscritto, perché vogliamo parlare assieme a te di un argomento importante, anche un po' ostico, che è il diritto d'autore. Tu sei un avvocato, ti occupi nello specifico proprio di diritto d'autore dello spettacolo, quindi sei la persona giusta per aiutare a entrare in questo mondo un po' complesso e aiutarci a capire qualcosa. Quindi Claudia, prima di addentrarci nella materia, raccontaci un po' chi sei e di che cosa ti occupi esattamente. Allora, io sono Claudia e sono un avvocato online, mi occupo di copyright e diritto d'autore legato al cinema, ma alle opere in generale, quindi io con altre due colleghe abbiamo creato questo studio legale che non ha una sede fisica, ma si propone di aiutare gli indipendenti, i freelance e le piccole produzioni cinematografiche audiovisive per aiutarli a sviluppare i loro progetti creativi, cercando anche di far capire che la legge non è un ostacolo, ma può essere ed anzi è un aiuto, una tutela per gli artisti e per i creativi in generale, quello sicuramente. E questa è una cosa sicuramente molto utile da dire, è un punto di riferimento appunto anche per chi lavora molto online, io e te ne sappiamo qualcosa e comunque in ogni caso io poi inserirò nel mio sito, nell'articolo riassuntivo, ci saranno anche i link al tuo sito, alla tua attività, così insomma le persone potranno curiosare un po' di più su quello che fai. C'è anche un bellissimo blog dove pubblichi degli articoli molto interessanti su tematiche nuove, un po' diverse, che consiglio di leggere. Entriamo però un po' di più adesso nello specifico della nostra conversazione di oggi, parliamo del diritto d'autore, che cosa si intende esattamente Claudia e qual è la legislazione applicabile nel nostro ordinamento? Sì, infatti hai detto bene perché comunque dobbiamo sicuramente parlare dell'ordinamento italiano visto che comunque non c'è una legge univoca né nel mondo né in Europa, la nostra legge è una legge un po' se vogliamo dirlo datata perché comunque è la numero 633 del 1941. Ovviamente al tempo internet non esisteva ma soprattutto non esisteva il concetto di dematerializzazione dell'opera come l'opera che sta online, per cui c'erano i libri, quindi c'era il supporto cartaceo, c'erano i film e anche quelli su supporto della pellicola e quindi in pratica c'era sempre qualcosa di tangibile, mentre oggi effettivamente viviamo in quella che è chiamata una società liquida dove in pratica non c'è più questo supporto fisico che rendeva anche molto più facile la tutela dell'opera che comunque chiaramente poteva essere toccata e aveva anche più ed era un oggetto materiale che si poteva tutelare. Quindi niente la legge diciamo è datata però chiaramente ci sono state delle integrazioni e delle sì delle integrazioni alla legge stessa e ad oggi quindi noi adottiamo comunque, cerchiamo così di integrare quella che ha comunque una regolamentazione che appartiene al passato. Sicuramente il fatto che oggi viviamo molto online altera un po' la percezione delle cose, anche perché sembra quasi che tutto quello che è online sia libero, sembra quasi che tutti ne possiamo fare l'uso che vogliamo, mentre in realtà non è assolutamente così, si rischia di commettere degli errori importanti e anche di andare incontro a delle conseguenze specifiche. Quando parliamo però di per iscritto è automatica l'associazione con i libri, li hai citati tu poco tempo fa, i libri che sono uno strumento importantissimo di divulgazione della conoscenza e sono sicura che i miei ascoltatori saranno interessati a cercare di capire insomma qualche cosa di più in merito al discorso del diritto d'autore, che quando parliamo di libri diciamo che si prospettano davanti a noi due situazioni diverse, da un lato c'è la tutela del proprio diritto da parte dell'autore che ha scritto e pubblicato il libro e vuole tutelarsi giustamente, dall'altro abbiamo un po' il rapporto controverso direi, perché anche questo viene riportato molto spesso dalle persone, con le case editrici, quindi anche qui sicuramente è importante un discorso di tutela da parte dell'autore del libro rispetto alla casa editrice che lo pubblica. In queste due situazioni che ho evidenziato, Claudia, tu che cosa puoi dirci nello specifico e soprattutto come fare per tutelarsi? Allora, intanto come ti dicevo prima, l'avvento di internet ha cambiato radicalmente quella che è la percezione sia del bene, quindi dell'opera materiale, ma sia anche dell'autore che non è più il tipico che per pubblicare un libro aveva bisogno di una casa editrice, quindi oltre ad essere cambiato l'oggetto materiale dell'opera in sé, è cambiato anche il rapporto che le persone o comunque gli autori, gli artisti hanno rispetto a quelli che erano gli intermediari, per cui parliamo appunto delle case editrici, delle case discografiche, che con l'avvento di internet si sono dovute rivoluzionare, ma che per molti versi sono inutili in pratica. Quindi tu dicevi sì, il libro è rimasto così come supporto cartaceo, ma effettivamente ci sono anche nuovi modi per pubblicare libri, come per esempio, mi riferisco agli ebook, per dire che sono un'altra possibilità per comunque pubblicare invece che in forma cartacea. Tutti i diritti riguardanti queste opere sono regolati da contratti, per cui in pratica tutte le volte che si pubblica qualcosa e per pubblicare intendo anche postarlo online, quindi ovviamente tutte le volte che si rende pubblico si mette online qualcosa e quello per me, anzi non per me, ma per la legge è proprio una pubblicazione, quindi non solo attraverso la casa editrice, ma tu stesso se ormai vai su internet puoi comunque postare quello che vuoi tu, insomma, che sia un libro, che sia un post, che sia uno scritto, un pdf, quello comunque è considerata come una pubblicazione, perché rendere pubblico qualcosa di tuo. e quindi dicevo, tutti questi nuovi modi di rendere pubblico un'opera sono regolati da contratti, per cui come si tutela l'autore? Deve stare ben attento a leggere quello che c'è scritto nel suo contratto di pubblicazione, quindi nel caso in cui davanti abbia una casa editrice, deve comunque capire bene quali sono i suoi diritti e soprattutto gli obblighi della casa editrice, perché ormai comunque questi contratti sono vissuti un po' come contratti unilaterali, del tipo o li accetti o niente, non pubblichiamo il tuo libro, per cui spesso non avendo potere contrattuale forte, l'autore è un po' come dire costretto a firmare questi fogli, un po' come, non so, mi ricordo quando ero piccola mi vendevano le enciclopedie e nel senso era un po' così, cioè ho firmi o se no non se ne fa niente. Devo dire che proprio internet ci dà la libertà anche di, a parte di informarci e quindi di capire bene quali sono i nostri diritti, ma soprattutto di dire vabbè casa editrice non vuoi pubblicarmi questo libro? E io me lo autopubblico, anche lì però bisogna stare comunque attenti perché nel momento in cui si pubblica un libro chiaramente c'è sempre il contratto che è quello che si firma con la piattaforma e anche qui c'è da dire che normalmente, cioè lo faccio pure io, quando ci si trova davanti quella casellina da spuntare dove c'è scritto accetti le condizioni e dovresti andarle a leggere, non lo fai e quindi a quel punto un po' è come dire avresti dovuto ma non l'hai fatto ecco, quindi per prima cosa visto che comunque i contratti sono importantissimi quindi quello che direi è leggete quello che c'è scritto nell'accordo perché solo lì capirete quali sono i vostri diritti e soprattutto i vostri obblighi. Eh sì Claudia, questa è una cosa molto importante che tu abbia insomma rimarcato questo aspetto perché molte volte le persone sono anche prese dal desiderio di veder pubblicato il proprio libro quindi quando magari riesci a trovare una casa editrice disposta a pubblicarti che è abbastanza raro al giorno d'oggi uno è portato a firmare perché pensa magari di non avere alternative quindi pur di vedere il libro pubblicato firma e cede un po' su tutti i fronti quindi l'alternativa potrebbe essere comunque sempre quella di far leggere il contratto appunto un esperto del settore, un avvocato che ti può dare un consiglio appunto garantire la massima tutela dei diritti questo sicuramente è un buon consiglio che possiamo dare alle persone che ci ascoltano. E poi sai anche farlo leggere a un esperto ma soprattutto secondo me avere l'autocoscienza ora comunque capire veramente quali sono le possibilità che ti vengono offerte perché a volte comunque nei confronti della legge o comunque di un contratto le persone e gli autori in generale che si spaventano molto facilmente non leggono perché comunque hanno questo preconcetto che è scritto in legalese ma cosa vuol dire questo? ma che ne so io? ma non sono affari miei? e invece secondo me informarsi prima di tutto e capire veramente a cosa si va incontro è la prima cosa perché comunque ci rende responsabili e questo è importante a prescindere dalla legge sì, quando mettiamo una firma su qualsiasi cosa siamo responsabili di quello che c'è scritto e quindi è giusto che impariamo ad essere più consapevoli tornando ai libri ci sono tante persone che hanno il piacere di scrivere hanno delle buone idee, tanti contenuti interessanti da divulgare ma magari non hanno il tempo per scrivere io qui a Periscritto ho intervistato davvero tantissimi autori che nella maggior parte dei casi primariamente svolgono una professione completamente diversa dalla scrittura e quindi pur avendo magari idee buone, contenuti interessanti trovare il tempo di scrivere un libro che è una cosa molto impegnativa diventa abbastanza complicato allora qualcuno che cosa fa? beh, fa scrivere il libro da qualcun altro da Angostriter per esempio però mi rendo conto che molte persone hanno anche un po' paura di fare questa scelta perché appunto non sanno come regolarsi sul discorso appunto del diritto d'autore hanno un po' di paura, non si fidano allora cerchiamo di dare un consiglio a queste persone che possono affidarsi chiaramente ad un professionista serio come possono fare per tutelarsi io faccio finta di non sapere nulla di questo e lascio a te la parola questa è veramente una domanda direi difficile perché il ghostwriter è comunque un autore per cui in Italia come in tutti i paesi regolati dalle leggi ora vabbè faccio una piccola digressione nel senso che in Italia vige quello che si chiama civil law per cui il centro di tutto è la persona e l'autore che ha dei diritti che sono i diritti morali che sono diritti imprescrittibili quindi il diritto ad essere riconosciuto come autore dell'opera è un diritto imprescrittibile e personalissimo a cui l'autore in teoria non può rinunciare diversamente succede invece in altri paesi che sono regolati dalle leggi del common law dalle leggi del common law come per esempio gli Stati Uniti o comunque l'Inghilterra dove invece si parla di copyright quindi l'opera o comunque il diritto d'autore è una vera e propria proprietà come se fosse una casa perché una volta che la si vende chi la compra può fare quello che vuole con la sua proprietà può cambiargli il nome può modificarla cambiare il nome vabbè nel caso della casa no però sempre rifacendo i stai libri se io ti vendo il mio libro tu comunque diventi in un sistema di copyright tu diventi padrone assoluto di quell'opera e puoi modificarla, storpiarla fare tutto o scrivere Catu e l'autore originale rimane così interdetto diciamo nei sistemi invece come il nostro effettivamente la figura del ghostwriter è un po' difficile da da inquadrare ecco grazie è un po' difficile da inquadrare perché egli stesso è autore dell'opera per cui in teoria dovrebbe rinunciare a quello che è un suo diritto irrinunciabile ossia quello di essere comunque nominato come autore dell'opera e scrivere qualcosa che invece praticamente cedere questo diritto che è incedibile quindi visto che comunque la materia è di nuovo come al solito regolata dalla contrattualistica l'unica tutela possibile sia per il ghostwriter che per quello che poi vuole essere nominato come autore è fare un bel contratto dove si mettono comunque per iscritto tutte quelle che sono le modalità di scrittura del libro quindi direi che parlando di ghostwriter si parla di commissione quindi anche lì bisognerà comunque mettere nero su bianco che colui che ha scritto il libro è comunque stato commissionato alla scrittura e che in qualche modo non rinuncia perché non si può però è d'accordo sul fatto che il libro venga cioè nel libro non venga nominato lui come autore ecco e quindi ancora una volta ci sarebbe bisogno di una legislazione un pochettino più specifica che vada a regolamentare anche questa materia perché comunque è una realtà diffusa non soltanto nella scrittura dei libri ma anche se pensiamo semplicemente alla scrittura di testi discorsi quindi insomma ci sarebbe bisogno di una regolamentazione quello che appunto io consiglio è che da un lato sicuramente ci si deve fidare della persona alla quale si affida il proprio libro e poi sicuramente un ghostwriter professionale fa sempre firmare un contratto che appunto come dicevi tu è un discorso di tutela reciproca perché è giusto che anche insomma il ghostwriter alla fine venga tutelato sì tra l'altro il ghostwriter deve essere tutelato e soprattutto retribuito perché comunque sta facendo un lavoro quindi nel momento in cui si commissiona un lavoro si redigerà un contratto di commissione nel quale si metterà si farà ben presente che chi ti commissiona al lavoro poi chiaramente può darti quello che è il tuo titolo di scrittore ma diciamo un ghostwriter no però aiuto alla scrittura collaboratore insomma certo sì e Claudia quando parliamo invece di libri tecnici di manuali di in generale divulgazione del sapere diciamo così dove è molto frequente la decisione di opere altrui ed è fondamentale in questo caso riconoscere la paternità all'autore di un libro di una citazione di una teoria eccetera senza appropriarsene ingiustamente e come ci regoliamo quindi rispetto sempre ad un libro con la citazione delle fonti con la bibliografia cioè cosa dobbiamo scrivere e poi c'è un'altra cosa che mi interessava chiederti capita di riportare delle parti di libri lo si può fare e in che misura? Tutte le volte che si discute o comunque si critica o si o si fa ricerca si possono sicuramente citare altre fonti riportando le nelle virgolette e comunque come hai detto tu citando quello che è l'autore dell'opera originaria che si intende criticare ed è comunque previsto dalla legge per cui non c'è diciamo nessuna di vieto di riportare la la lunghezza della citazione non è importante nel momento in cui ci serve comunque per criticare o discutere su qualche su qualche test quindi a fini di ricerca di discussione di critica si può comunque fare come si vuole sempre tenendo presente che nel momento in cui si cita si devono mettere le virgolette e riportare poi quello che è il testo originario che abbiamo in un certo senso copiato trasfuso nella nostra opera però qui vengono comunque ci sono altri diritti oltre quello d'autore che sono appunto i diritti della libertà di informazione di cronaco comunque di discussione che sono diritti costituzionalmente garantiti anche a libertà di espressione per cui nel momento in cui di nuovo non si va contro quelli che sono i diritti altrui e quindi magari gli si copia o non si mettono le virgolette si dice quel pezzo di opera è tuo di nuovo c'è una lesione di quello che è il diritto morale dell'autore se comunque si agisce in maniera lecita si può fare come si vuole ecco certo l'importante è comunque citare la fonte questo è un consiglio che do anche alle persone che scelgono magari di lavorare assieme a meno quando prepariamo il nostro libro e consigliamo come giusto o spiccabile che sia anche altri materiali prendiamo sempre nota delle fonti da dove proviene quel materiale perché poi molte volte quando ci mettiamo lì a scrivere la nostra mente funziona per conto suo e magari inconsapevolmente senza cattiva intenzione può essere che scriviamo un qualcosa che è frutto dell'opera del lavoro dell'ingegno come nostro e quindi questo non va bene quindi anche un modo per tutelare se stessi e per evitare di andare incontro a situazioni spiacevoli perché se il nostro diritto d'autore viene violato beh è una cosa piuttosto grave e quindi se c'è qualcuno che mi copia che utilizza parti del mio testo senza citarmi come autore quali strumenti ci offre la legge per tutelarci qual è proprio Claudio il procedimento da seguire allora prima di tutto dal punto di vista legale la prima cosa che devi fare è comunicare con il tizio che pensi che ti abbia copiato e dal punto di vista e questo diciamo in legalese si chiama diffida cioè comunque devi inviare una diffida che non è altro che una lettera scritta da un avvocato dove comunque si mettono bene in rilievo quelle che sono le richieste dell'autore dell'opera e si portano così ad evidenza quelli che sono comunque i documenti o le prove del fatto che la controparte ti abbia in qualche modo provocato un danno o non ti abbia citato come autore della tua opera devo dire che prima di arrivare all'invio di una diffida che comunque ripeto un atto a una lettera magari prodromica a poi a quella che sarà una causa se ci saranno i presupposti comunque prima di arrivare a questo quello che consiglio io è sempre nel dubbio contattare l'autore quindi comunque è così facile via internet ci sono comunque mille modi per contattare una persona quindi magari scrivendogli una mail o dicendogli senti ti molesta se utilizzo parti della tua opera o se la critico insomma secondo me c'è anche molte volte paura di mettersi in contatto magari con degli sconosciuti invece questo è proprio il bello della rete cioè basta chiedere per evitare poi comunque che ci siano delle così delle cause inutili che vengono portate avanti solo perché non ci sia spiegati meglio al principio ecco comunque dal punto di vista legale quello che si può fare è scrivere una diffida sì quindi tentare comunque prima di tutto di capirsi anche perché come dicevo prima può essere anche un atto inconsapevole cioè che viene fatto senza sentire intenzioni quindi appunto prima di arrivare a delle cause è bene fare questo tentativo poi però mi sembra Claudia non so se sei d'accordo che molte persone rinuncino un po' a tutelarsi nel senso che dicono eh vabbè adesso però mi tocca arrivare un avvocato mi costerà non si arriva niente perché poi in legge italiana sappiamo quali sono della giustizia italiana sappiamo quali sono però diciamo confrontarsi anche con l'avvocato che come dicevi tu molte volte semplicemente ti dà un consiglio e quindi ti permette di risolvere la situazione senza farsi troppo male credo sia comunque importante guarda per me vale quel detto non so era una pubblicità forse degli anni 80 prevenire meglio che curare certo e quindi niente anche secondo me il fatto che l'avvocato comunque costi troppo che sia che mandare una diffida sia un qualcosa che poi può provocare dei danni è un preconcetto tant'è che noi operando online ci siamo così inventato un modo anche per arrivare più facilmente alla gente cercando di prodottizzare queste lettere che comunque dal punto di vista professionale ci costa scrivere e ci siamo inventate questo pacchetto che si chiama diffida facile che poi non è altro che un modo di mettere in contatto le due persone che magari chi si sente copiato gli sale poi l'ansia come dici tu la paura o comunque dice vabbè non mi importa il mondo è crudele devo soffrire a tutti i costi non dirò mai niente a nessuno e così mandando una diffida si prova anche a contattare a vedere se si può aprire un dialogo cioè a volte anche le persone hanno paura di mettersi in contatto con l'autore dell'opera che vogliono utilizzare perché credono che sicuramente gli chiederà dei soldi per dire ma non è sempre detto può essere anche che ci siano persone che hanno voglia di condividere per condividere a me succede spesso magari posto un articolo se qualcuno lo legge gli piace mi chiede posso condividerlo con altre persone certo che puoi ci mancherebbe sì poi magari da quella che inizialmente sembra una situazione difficile di conflitto possono nascere anche delle cose belle perché no magari anche delle collaborazioni se si parla dei materi che comunque in qualche modo sono affini quindi sono d'accordo con te tanti pregiudizi da spazzar via come esistono tanti pregiudizi sul publishing che citavi tu all'inizio che viene un po' considerato come una forma di pubblicazione di serie B una seconda scelta il libro self publishing è un libro di qualità inferiore insomma ne sento veramente tantissime anche qui c'è tanto lavoro da fare per appunto spazzarli via questi pregiudizi far capire alle persone che se io credo profondamente in quello che ho scritto e voglia di condividerlo molte volte posso arrivarci anche senza il supporto di una casa editrice sicuramente non è facile perché qui l'autore del libro oltre a scriverlo che non è cosa semplice deve pensare a tutta la scrittura del libro come la chiamo io quindi anche revisione impaginazione pubblicazione la promozione soprattutto però se tutto questo viene fatto bene e proprio sostenuto da un desiderio vero autentico di condividere allora il self publishing diventa una risorsa c'è Claudia qualche consiglio che vuoi dare quindi a chi il libro decide di autopubblicarselo in materia di tutela del diritto d'autore io forse il consiglio che darei sia legale ma soprattutto di avere fiducia nelle proprie capacità e nel momento in cui si ha qualche timore o comunque si ha paura di vedere i diritti di qualcuno magari chiedere un consiglio a un avvocato a un professionista vedere come si comportano gli altri insomma capire un po' come funziona il mondo del online e comunque avere un riscontro anche con il mondo reale quindi capire bene quali quali meccanismi mettere in atto e soprattutto quello che penso è capire quali sono i propri diritti e non lasciarli andare per niente ecco e mi sembra un ottimo consiglio senti Claudia un'ultima domanda prima di salutarci quando invece decidiamo vogliamo tentare il canale dell'editoria tradizionale non è facile trovare una casa editrice disposta a pubblicare questo lo sappiamo ma un consiglio che io do spesso alle persone è di non aspettare di arrivare al termine della scrittura del libro prima di proporsi alle case editrici innanzitutto di individuare quelle che si occupano nello specifico del genere di libro che noi andiamo a scrivere perché anche questo è importante quindi fare una scrematura ma poi quando abbiamo già scritto due o tre capitoli preparare un abstract e inviarlo alle case editrici selezionate quindi solitamente nell'abstract ci metteremo una nostra autobiografia scriveremo qualcosa di noi poi una sinossi del nostro libro l'indice e uno o due capitoli di prova per tutelarci anche qui perché questo è un materiale inedito quindi lo andiamo a mandare alle case editrici magari abbiamo paura di trovare qualche persona non molto chiesa diciamo sì c'è qualche dicitura in particolare che noi possiamo inserire nel nostro abstract per essere tutelati possiamo in qualche modo registrare quello che è l'abstract perché comunque ora mi rifaccio quello che è così che sono gli scritti nel cinema quindi per dire i soggetti e i format sono comunque registrabili e la registrazione non è assolutamente costosa anzi si può comunque facilmente registrare una storia o quello che è un format magari mandandosi una raccomandata che voglio dire è veramente il prezzo ridottissimo giusto per avere quella che è così chiamata la data certa di creazione per cui comunque in quel momento tu hai già dimostrato che quel giorno hai creato quella data opera e poi nel momento in cui si manda la mail comunque direi di stare così attenti a quello che si scrive in modo da tenere sempre documentato il giorno in cui si è mandato questo soggetto diciamo questo abstract in giro chi l'ha letto come è stato letto cioè da chi è stato letto per che finalità è stato mandato in modo così da creare diciamo senza farsene accorgere quello che è un accordo diciamo di segretezza tra le parti e da rendere sempre documentabile quello che è stato fatto con con la tua opera che chiaramente è uno scheletro quindi non si potrà mai dire o dimostrare in maniera certa che è stata copiata però se intanto si hanno i vari passaggi o comunque si sa da chi è stata letta e da chi non è stata letta si può provare più facilmente che poi magari quella casa editrice o quel soggetto a cui l'hai dato da leggere te l'ha copiato ecco quindi mantenere comunque un dialogo tutto per tutto via mail e fare in modo di far capire che comunque siano ben chiari quali sono i propri diritti e magari ecco scriverei state attenti comunque che quest'opera è registrata in questo tal modo e che se la divulgate incorrerete in sanzioni insomma sanzioni anche dettate dalla legge ecco ti ringrazio Claudia per questo consiglio che è sicuramente molto utile e forse aiuta le persone anche a fare questo passo con un po' più di leggerezza Claudia siamo arrivati alla conclusione di questa intervista io ti ringrazio veramente di cuore perché hai dato un contributo proprio prezioso e di valore e sono sicura che i nostri ascoltatori saranno rimasti molto soddisfatti anche perché in fondo siamo tutti abzionati di libri e di scrittura l'attività dello scrittore è un'attività affascinante e per quanto uno possa essere diciamo così portato abbia talento nello scrivere è sempre comunque una gran fatica perché lo scrittore lo dico sempre un po' un artigiano e quindi credo sia giusto insomma conoscere i diritti di chi scrive e soprattutto come potersi tutelare quindi ti ringrazio davvero di cuore per il tuo contributo grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te